Gentili telespettatori, buona giornata. E così la stampa reputa un'offesa vedere i sindaci del Partito Democratico applaudire Giorgia Meloni. I sindaci del PD applaudono Giorgia Meloni perché Giorgia Meloni ha tolto l'abuso d'ufficio. Molti sono saltati sulle sedie dicendo cosa? Cosa ha fatto? Ha tolto l'abuso d'ufficio. L'Europa ci si rivolterà contro. Ma come? L'abuso d'ufficio lo introducono in tutta Europa e noi lo togliamo, torniamo indietro. Ma sapete cosa vuol dire? Che l'abuso d'ufficio, allora poi il sindaco potrà assumere la suocera in comune, nessuno potrà dire nulla. Allora, e poi potrà corrompere, essere corrotto. La parola stessa è corruzione. Abuso d'ufficio, corruzione. Dobbiamo dire questo. Voi sapete che esiste il reato di corruzione. Quindi l'abuso d'ufficio non va a estinguere il reato di corruzione. Se voi, nel svolgimento del vostro lavoro, come sindaco pubblico ufficiale, corrompete o siete corrotti, venite incriminati, la legge vi processa. Non è che abolendo l'abuso d'ufficio non esiste più il reato di corruzione. Non confondiamo le due cose. Per quanto riguarda il nepotismo, assumere la cognata in un'azienda partecipata dal comune, allora lì ci sono poi altre fattispecie. L'abuso d'ufficio però realmente portava nel 99% dei casi all'assoluzione. Migliaia e migliaia di processi che poi non finivano, che finivano in assoluzioni. Quindi vuol dire che un problema c'era. Certo, ci sono anche i condannati per abuso d'ufficio. Sono una percentuale piccolissima. Bisogna cercare di far sì che i condannati che prima erano condannati per abuso d'ufficio continuino ad essere condannati. e si faccia in modo che quel 99% di assoluzioni... Ecco, diciamo che l'abuso d'ufficio non andava bene. Non andava bene. Pertanto bisognerà aggiustare e trovare delle soluzioni. Intanto la Meloni e il governo hanno tolto questo abuso d'ufficio e i sindaci del PD sono esplosi di gioia applaudendo Giorgia Meloni. Si vede anche in questa foto di copertina tutti questi sindaci con fascia tricolore che esultano con la Meloni. E la Meloni spacca il Partito Democratico, dice la stampa. Ad esempio ci sono le dimissioni di Patrizio Onori dalla segreteria provinciale. Sono legati infatti alla visita della Premier il 7 dicembre scorso al Teatro Alfieri. Aveva commentato l'esponente Demm l'opposizione politica è rimasta in modo imbarazzante in silenzio. Anzi avrà probabilmente anche applaudito. Ecco, è così. La frase non è stata gradita dai sindaci tirati in ballo. La visita della Presidente Meloni è stato un evento istituzionale organizzato dalla Regione che nulla aveva a che fare con la militanza politica. Dice ho preso parte all'incontro come sindaco del mio comune dobbiamo essere corretti e saper scindere i ruoli. La risposta così di onore arriva con le dimissioni consegnate l'8 gennaio. Lascio la segreteria provinciale. Il PD a livello regionale ha ripetuto quello che dicevo io in merito alla visita di Giorgia Meloni. I sindaci dicono sostanzialmente questo se noi siamo sempre stati contrari al reato di abuso d'ufficio non è che se arriva la Meloni diventiamo favorevoli dobbiamo avere una dignità noi siamo sindaci, siamo al contatto con le persone con la gente, con gli uffici amministrativi non siamo delle banderuole come a Roma che il capo politico dice una cosa e tutti dietro come le paperelle a seguire bisogna avere anche una certa dignità se sei a favore dell'abolizione del reato di abuso d'ufficio non è che se arriva la Meloni allora diventi favorevole perché se la Meloni lo vuole cancellare io devo dire che sono contrario perché a Roma succede così mentre nelle regioni, nei comuni è difficile che succeda a Roma tutti questi politici che poi sono dei dipendenti statali e il loro datore di lavoro è il capo politico perché ricordatevi che il capo politico decide se confermarlo alle prossime elezioni ecco quindi il loro lavoro dura 5 anni se va bene se non cade il governo prima il loro lavoro è un lavoro a termine di 5 anni è un lavoro a tempo determinato il lavoro del parlamentare è un lavoro a tempo determinato sono dei precari della politica non hanno un lavoro a tempo indeterminato e pertanto qualsiasi cosa dice il loro datore di lavoro cioè il loro capo politico loro come delle banderuole cambiano idea dalla mattina alla sera tranquillamente poi vanno pure nelle trasmissioni televisive a difendere il loro orticello e sono ridicoli perché nei programmi vengono messi quelli di destra a destra quelli di sinistra a sinistra e si continuano a beccare per difendere l'orticello e il loro lavoro a tempo determinato penosissimi pertanto quello che succede a Roma è questo la Meloni vuole l'abuso d'ufficio e tutti quelli di sinistra devono dire no no che schifo non si può togliere l'abuso d'ufficio come dice la Meloni quando prima dell'arrivo della Meloni tutti pensavano che era corretto toglierlo questo è faziosismo muro ideologico molto alto ecco ma più che muro ideologico è gente che per tutelare il proprio lavoro devono ripetere come dei pappagalli quello che oggi dice il loro capo politico se domani il loro capo politico cambia idea come i pappagalli tutti cambiano idea immediatamente chiaro no? ecco grazie a tutti per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti vi ringrazio ricordatevi Teleitalia Seconda Rete dove trovate video appunto come questi e poi tutto è condiviso sugli altri social grazie e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti